Non ci siamo ancora tolti di dosso, le immaginette manga di Miyazaki e c'è un'altra moda che sta imperversando nella rete, quella delle action figure in modellini, queste scatole generate con la vostra faccia e con tutta una serie di oggetti, in questo caso c'è Bit, c'è il mio Mac, c'è il manuale delle regole, c'è la Tesla e c'è la mia moto. Oggi vediamo, se avete un abbonamento di qualunque tipo a ChatGPT come farlo, vi do da scaricare direttamente il prompt eccetera, lo vediamo rimanendo un po' più leggeri rispetto alle ultime settimane in una nuova puntata di Ciao Internet. Ciao Internet, partiamo dall'inizio, non avete bisogno di segnarvi a mano quello che sto dicendo, c'è una guida che ho già fatto, ovviamente assolutamente gratuita, la trovate qui sotto, download.matteoflora.com, qui c'è il QR code, nella descrizione trovate il link. Nessun problema, vi do tutte le indicazioni passo a passo, però vediamolo un secondo assieme per capire. Innanzitutto, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di queste, cioè una scatola di una action figure, come viene chiamata, i pupazzetti normalmente dei film o dei cartoni animati, generati però in modo un po' particolare. Un po' particolare perché c'è nome, il sottotitolo, una faccia che più o meno mi assomiglia, mettiamola così, e tutta una serie di altri oggetti. Come viene generata? Viene generata direttamente utilizzando ChatGPT. Se avete un abbonamento qualunque nella versione free, per adesso l'hanno un attimo bloccata perché c'è troppo traffico, ma nelle prossime settimane sono convinto che sarà disponibile anche per chi non ha l'abbonamento. Lo vediamo assieme passo a passo per vedere come si genera. Si parte tutto, parte tutto dal caricare una fotografia, in questo caso una mia foto qualunque. Dopodiché il prompt è abbastanza semplice, ci sono un paio di accorgimenti giusto per evitare che continui a sbagliare. Il primo è crea un'immagine, così sa che cosa deve fare. Poi crea un giocattolo con le sembianze della persona in questa foto. Falla come action figure in una scatola. Se ci sono delle cose particolari di teo, tipo ha gli occhiali rossi e una camicia nera, giusto per dare il contesto. Poi l'elenco dei contenuti. Accanto alla figura ci dovrebbe essere l'equipaggiamento del giocattolo, ciascun vezzo nel suo blister individuale. Un bassotto a pelo duro, un MacBook Air, un manuale nero con scritto The Rules, un modellino di Tesla Model 3 bianca, un GS 1002 bianco. La cosa importante è mettere i numeri e soprattutto la frase dopo. Non ripetere in nessun caso l'attrezzatura. Sono solo cinque oggetti e solo cinque. Il cartoncino che contiene il blister deve essere di colore nero e rosso intenso. Potete cambiare quello che volete. Inoltre, sulla parte superiore della scatola, scrivere Matteo Flora e sotto di essa architetto di narrative. La figura e l'equipaggiamento devono essere tutte all'interno del blister. Visualizza il tutto in modo realistico. Se non dite di non duplicare, attenzione che vi trovate questa cosa, che non è il massimo della vita. Tutto qui in realtà. Una volta lanciato questo potete fare un po' di variazioni. Ad esempio potremmo dire, che ne so, ok, possiamo dirgli, fallo in... Il cartoncino deve essere di colore bianco, anzi di colore arancione acceso. Inoltre, sulla pagina, Matteo Flora e sotto di essa faccio cose, vedo gente. La figura e l'equipaggiamento, va bene, potremmo mettere qualcos'altro. Invece che il manuale con scritto The Rules, un clown. Via. A seconda del carico che in quel momento ha ChatGPT, potrebbe metterci un bel po' di tempo. Se invece siamo abbastanza scarichi, ovviamente il tempo è ridotto. Le variazioni possono essere tantissime. In realtà io ho cercato semplicemente di fare la versione più semplice in assoluto, ma sentitevi liberi di andare a modificare, a integrare, ad aggiungere cose. Fa molto ridere ed è divertente da vedere. Mentre lui continua. Due riflessioni. Siamo arrivati ad un momento in cui, beh, in cui cambia un po' tutto. Se ci pensate un secondo, cambia veramente il modo di fare grafica, di abbozzare cose. La precisione diventa al massimo quello di cui abbiamo bisogno quando chiamiamo un professionista. Per il resto, quasi tutto quello che voi potete immaginare, se siete in grado di descriverlo in maniera corretta e sapete due trucchi al volo, beh, siete in grado anche di realizzarlo. È un cambiamento importante soprattutto non per le enormi aziende, ma per quelle un po' più piccole, che in questo modo riescono a creare, nel frattempo ha finito, riescono a creare contenuti a un livello che è imbarazzante obiettivamente. A un livello che è quello di un buon professionista che fa cose, a un livello tale che, beh, da un certo punto di vista fa anche un filo paura. Ecco la versione, faccio cose, vedo gente, e la cosa che mi fa divertire tantissimo è il clown lì dentro. Direi tutto qui. Era una cosa semplice e divertente. Vi ricordo che qui sotto, e nel link in descrizione, trovate, se non volete copiarvi a mano il prompt, il prompt è un paio di altre cose, c'è una guida passo a passo, eccetera. Nulla di particolare. Mi sa che farò qualche video di questo tipo un po' più spesso, perché sono divertenti e staccano un secondo, magari dagli argomenti un po' più importanti, più pesantini. Per il resto, se non vi siete ancora iscritti e se volete altri contenuti di questo tipo, potrebbe essere il momento giusto per iscrivervi. Se volete c'è anche una splendida newsletter in cui racconto cose tutte le settimane, basta così. Grazie mille, ancora, per avermi ascoltato e come sempre, anche questa volta... Estote parati, dai. Vero?